Buon sal buoni appassionati di Football Manager, io sono Alessandro, Luculus Games su YouTube e su quella piattaforma viola dove andiamo in live tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 19, sabato e domenica dal 17. Probabilmente vi sarete accorti che in questi giorni non sono usciti video su YouTube, stavo facendo delle simulazioni abbastanza continue e pesanti per provare a scoprire qualcosina sul gioco. E devo dire che alcune scoperte sono state fatte, sono molto croccanti, ma ve le svelerò nei prossimi giorni, sono scoperte che in qualche modo ci faranno ripensare sia all'allenamento sia a come acquistare i giocatori, ma non vi voglio anticipare nulla. Il video di oggi invece riguarda i consigli, i trucchetti che possono agevolare le nostre giocate e migliorare anche il modo di approcciarci a Football Manager 2022. Il video di oggi è una sorta di parte 2 rispetto a quello che già diciamo tempo fa quando parlamo di tricks su Football Manager, quindi andate a riprendere quel video che vi metterò a schermo perché anche lì troverete ulteriori consigli. Ma, bando alle ciance, partiamo con il primo nuovo consiglio. Andiamo quindi su Osservatori, dopodiché sfruttiamo il potente strumento del filtro. Quante volte magari vi siete chiesti, ma come faccio a diminuire la valanga di giocatori che mi vengono messi sotto osservazione, sto sempre lì a cliccare, non mi interessa, non mi interessa? Cominciamo a fare un primo filtro. Vedete come qui ci vengono dati 7 elementi da valutare, ma se io vado a settare verso l'alto il livello minimo dei giocatori e pigio sul tasto sinistro, adesso in un punto quasi dello schermo, qui abbiamo a che fare solamente con 3 giocatori con un valore minimo dal 7,5 a salire tra quelli consigliati. Ritorniamo nel filtro perché questo è davvero uno strumento potentissimo, possiamo anche decidere che queste informazioni che ci vengono date sui profili consigliati possono arrivare magari solamente nel centro osservatori o addirittura in posto. Quante volte vi siete chiesti, ma perché in posto arriva tutta sta roba, io non ci voglio avere a che fare? Ecco, cominciate a settare la roba in maniera tale che non arrivi insomma dappertutto. Potete anche decidere ad esempio che razza di offerte valutare, tutti i possibili prospetti, oppure se deselezionate questa casellina potete concentrarvi solamente su promesse, giocatori che vengono a essere messi nella lista di trasferimento e compagnia bella. Potete anche decidere su quale base di età andare a lavorare e una volta fatto tutto vi basterà, ripeto, cliccare su un punto quasi dello schermo e tutto si applicherà come filtro. Andiamo adesso in posta in arrivo. Quante volte vi arrivano informazioni che vorreste non leggere? Beh, filtrate. Altro filtro davvero importante è questo. Piggiamo per esempio su questi trattini orizzontali, andiamo quindi su filtra e decidiamo quali informazioni non prendere più in considerazione. Non vi interessano i discorsi sui media? Toglieteli. Non vi arriveranno più informazioni di questo tipo. Ci sono i tutorial che non vi interessano perché siete già skillati su FM? Togliete anche i tutorial. Una volta fatta la vostra scelta ovviamente andate su conferma e diminuiranno sensibilmente i messaggi che compariranno in posta. Ovviamente fate attenzione a non togliere le cose importanti. Sento però che ancora non vi basta. Vi sento cliccare sempre su prossima notizia, prossima notizia e dire ma com'è possibile che arrivano ancora tutte queste informazioni? Magari siete tentati di cliccare sul calendario e andare sul prossimo incontro saltando un percorso molto lungo in cui magari non si gioca perché ci sono le nazionali. Ma se andate in vacanza vi perdete un sacco di informazioni quindi proviamo un'alternativa. Andiamo su FM, andiamo su preferenze. Dopodiché ci spostiamo alla generale in avanzata. Qui in atta a destra cliccate su più comuni e pigiate poi su interfaccia. A questo punto scendete in basso fino alla fine finché non trovate questa dicitura, ovvero elaborazione in corso, continua, automatico, di base e disabilitato. Pigiamo invece su questa parte e poi andiamo a selezionare immediato, dopodiché andiamo su conferma e attendiamo il caricamento della schiena. Cosa accade quindi con questa impostazione attiva? Come vedete le mie mani sono lontane dal mouse ma il gioco continua ad andare in avanti giorno per giorno. Quindi se ci sono questioni importanti il gioco si bloccherà e mi farà intervenire. Se non ci sono questioni importanti io potrò tranquillamente fare altro e il gioco andrà avanti velocizzando tantissimo la mia esperienza. Quando magari arriverà invece che ne so un'offerta per un mio giocatore il gioco si blocca e mi fa intervenire. Ci sta qualcosa da settare di particolarmente utile per il mio team, il gioco si ferma e mi fa intervenire. Insomma tutte le volte che ci sta una questione importante il gioco si blocca. Se no prosegue tranquillamente velocizzando le operazioni. Quanto è odioso giocare le partite una dopo l'altra? Magari giocate il giorno 5, il 6 ci sta la pausa, il giorno 7 un'altra volta una partita. Questi calendari sono veramente un disastro. Ma c'è il modo di evitare situazioni stile Boxing Day dove in Inghilterra si gioca il 26 e il 28 dicembre. Come si fa a evitare queste cose? Beh impostando direttamente di giocare solamente il mercoledì e il sabato. Cosa è tra l'altro utilissima non solo per la questione calendari ma anche per la questione programmazione degli allenamenti. Ma andiamo per ordine e vediamo come si fa a settare un calendario in cui si gioca solamente il mercoledì e il sabato. Andiamo quindi in alto a destra su FM, pigiamo su preferenze, poi ci spostiamo in generale in avanzata. Qui in alto a destra pigiamo su più comuni e pigiamo poi su partita. Scendiamo in basso in basso finché non troviamo la dicitura opzioni calendario partite. Qui normalmente è selezionato permette alle gare di essere posticipate per ragioni televisive. Assolutamente questo non ci piace. Quindi clicchiamo su questa voce e andiamo semplicemente a dire guarda devi giocare solamente partite al sabato e al mercoledì. Ovviamente dovete pigiare su conferma e attendere il caricamento della skin. Se ancora non avete iniziato un nuovo save vi consiglio di fare questa impostazione direttamente dal menu iniziale di Football Manager cliccando quindi su preferenze e seguendo i passi che vi ho fatto vedere. Questo perché se io avviassi una nuova partita e non impostassi subito questa roba mi partirebbe il calendario classico. Una volta che il calendario è generato bisogna poi aspettare la prossima stagione per avere veramente poi le partite a mercoledì e al sabato. Infatti vi faccio vedere adesso in questo save che stiamo portando in live su quella piattaforma viola dove nella primissima stagione il nostro calendario era settato sulla modalità classica. Cioè si giocava a mercoledì, al sabato, alla domenica, al giovedì insomma quando ci spostavano le partite. Mentre nell'ultima stagione la 23-24 vedete che giochiamo sempre e solo il mercoledì e il sabato. E se prendiamo una squadra che magari non sta in Champions League ma sta in Europa League come si fa? Si giocherà sempre a mercoledì? La risposta è assolutamente sì. Vedete come siamo qui alla Lazio alla prima stagione e normalmente noi giochiamo il mercoledì anche in Europa League. Quindi non esiste giocare il martedì, il mercoledì, il giovedì. Si gioca sempre il turno infrasettimanale il mercoledì e il turno classico di sabato. Questo vi agevolerà tantissimo per quanto riguarda anche la creazione dei programmi di allenamento. Questa roba qua vi agevola tantissimo sugli allenamenti perché andate a programmare solamente due sessioni. Una dove si giocherà sempre al sabato, un'altra dove si giocherà al sabato e al mercoledì. E andrete a mettere tutto a posto senza essere sempre messi in difficoltà da quei turni che vengono creati per spostamento di partite durante l'arco del mese. Quindi siete molto più preparati anche per quanto riguarda la programmazione della crescita dei vostri ragazzi. Da quando è stato creato il centro di sviluppo su Football Manager ci tocca sempre fare un sacco di click per andare a vedere le nostre giovanili. Quindi andiamo su centro sviluppo, poi andiamo su Under 20 per vedere la rosa e dobbiamo cliccare poi su rosa. Se vogliamo andare a fare allenamento siamo molto limitati perché cliccando su allenamento vedete che ci sta semplicemente la possibilità magari di cambiare il ruolo, mettere il focus. Ma dove sta il tutoraggio? Dove sta la programmazione delle sessioni di allenamento? Beh per poter avere sulla sinistra direttamente l'Under 21, l'Under 18 o qualsiasi altra Under in base al campionato di riferimento basta andare su Staffa, dopodiché andiamo su Responsabilità, andiamo quindi su Allenamento e ci prendiamo l'incarico dell'allenamento. Attenzione dell'allenamento, non della gestione di mandare in campo i giocatori dell'Under 20 perché magari può non interessarci. Andiamo quindi ad accettare l'incarico per quanto riguarda queste due voci. Se volete anche avere reso conto cliccate anche qui, semplicemente vi verrà nelle poste poi reso conto su chi da lodare e chi invece da criticare per come si sta comportando in allenamento. Ma se non vi interessa non c'è bisogno, andate quindi su Conferma, mi raccomando è fondamentale, vedete che ora compare l'Under 20 sulla sinistra dello schermo. Cliccando adesso sull'Under 20, questa cosa la potete fare anche ovviamente con l'Under 18, una volta cliccato quindi su Under 20 possiamo vedere direttamente la rosa senza fare 20.000 click. Se andiamo sotto la voce allenamento ci sarà la possibilità di cambiare anche i giocatori nei vari gruppi, possiamo andare in tutoraggi, creare finalmente il nostro tutoraggio così come facciamo anche con la squadra principale e possiamo ovviamente andare a valutare anche i preparatori. Non ci sarà quindi da cliccare ogni volta sugli uomini per esempio qui perché normalmente se voi non mettete questo per poter vedere il vostro stato dovete cliccare per forza sugli uomini perché è buggato. Invece qua posso cliccare un'altra volta sotto la voce preparatori, vedete che qua mi compare la lista solamente dell'Under 20. Se infatti ritorniamo indietro, torniamo su responsabilità, andiamo all'allenamento e ritorniamo alla situazione precedente, scomparirà quella voce e andiamo su sviluppo, andiamo su staff, andiamo su staff Under 20. Vedete che non ci sta quella lineetta sotto preparatori, quindi ogni volta qui per poter vedere la lista dei preparatori come dobbiamo fare per l'Under 20. Quindi se non impostiamo questa roba dobbiamo cliccare sui singoli personaggi per vedere veramente il loro valore, questa è una cosa veramente illogica ma possiamo risolvere come vi ho fatto vedere in precedenza. Quando si crea un nuovo profilo allenatore molto spesso si mette semplicemente una nazionalità e basta, ma perché non andare a sfruttare la possibilità di avere anche ulteriori nazionalità, ulteriori lingue da poter parlare? Questo ci potrà agevolare tantissimo con quei giocatori che magari vengono da culture completamente differenti dalla nostra o magari sono comunque stranieri, non c'è nessuna squadra che parla la loro lingua e potrebbero adattarsi con più difficoltà poi e potrebbero crearci dei problemi all'interno dello spogliatoio. Quindi andiamo a cliccare su questa matitina riguardo atta cittadinanza e altre lingue e possiamo impostare anche un'altra cittadinanza. Che ne so, mettiamo ad esempio il francese perché è un'altra lingua molto importante che si parla in tutto il mondo. Andiamo a mettere tra le altre lingue invece parlate, che ne so, il tedesco, potremo anche aggiungere lo spagnolo e il portoghese, insomma aggiungete le lingue, sfruttatele perché non sono semplicemente un vezzo estetico, servono proprio per avere dei vantaggi con quei giocatori che magari parlano lingue diverse da quella nazione in cui magari ha allenate e potrebbero essere facilitati nell'inserimento del tema. Quando di voi hanno provato a scansionare l'immaginetta di un personaggio per poterlo poi andare a creare ma poi non piaceva come veniva fuori e lo scartavate, beh avete la possibilità di mettere anche una foto reale vostra o del personaggio che avete creato per il vostro team. Vediamo come si fa, andiamo su FM, clicchiamo qui di poi su preferenze, dopodiché da generale ci spostiamo in avanzate, qui su più comuni ci pigiamo e mettiamo tutto. Una volta fatto questo scendiamo un pochino e qui compare la voce cambia immagine del profilo, a questo punto andiamo sul seleziona e andiamo a scegliere un'immaginetta di nostro gradimento. Qui l'immaginetta di default è in nome del computer, disco C, poi user, il vostro nick per quanto riguarda la macchina dove avete installato ovviamente il seno operativo, poi può essere direttamente presente OneDrive o direttamente immagini. Chiaramente potete andare anche da altre parti, non dovete per forza sfruttare questa roba, potete cambiare completamente il percorso, ma qui abbiamo questa immaginetta di Christian Vieri, andiamo a caricarla e andiamo a confermare una volta quindi atteso il caricamento della skin avremo finalmente la nostra faccina reale di Christian Vieri. All'inizio della stagione è molto importante settare un sacco di amichevoli affinché i giocatori entrino subito in forma partita, ma non tutti sanno che non c'è bisogno di andare su organizza amichevole e mettere le amichevoli singole, perché se io per esempio volessi creare un amichevole qui in questo caso il 6 ottobre dovrei andare a scegliere ovviamente la squadra, pigiare poi su conferma, ma mi riporterebbe un'altra volta qua. Se ne voglio organizzare 4 o 5 amichevoli anziché pigiare 20.000 volte su organizza amichevole, vado direttamente su tipo qui in alto a destra, metto amichevole multiple e a quel punto le setto tutte quante, che so voglio fare due amichevoli soltanto, vado a scegliere direttamente le squadre qui sulla parte destra dello schermo e una volta scelte tutte le amichevoli, in questo caso solamente due, perché non c'è altro spazio in questo momento della stagione, vado su conferma e in questo caso come vedete abbiamo tre amichevoli, due impostate tutte in una volta. Quanto sono utili i tasti di scelta rapida? Con la barra spaziatrice si va in avanti, con CTLF si va direttamente a ricercare i giocatori nella barra di ricerca, ma dove si vanno a beccare questi tasti di scelta rapida? Beh, ce l'avete già all'interno del gioco, andiamo su FM qui in alto a destra, clicchiamo su preferenze, dopodiché da generale ci spostiamo in avanzata e questa volta basta rimanere su più comuni, perché avete qui a questa voce scelta rapida la valanga di tasti a vostra disposizione. Clicchiamo su scelta rapida, guardate l'elenco veramente incredibile, un tasto molto utile è anche questo come combo per salvare la partita, magari il gioco si è bloccato, non volete perdere tutto, non sapete come fare, questa è la combo che vi può aiutare. Chiaramente potete anche rimuovere queste combo, questi singoli tasti, perché magari avete altri programmi background che potrebbero andare in conflitto, potete fare quello che volete, potete andare quindi a rimuoverli, ma anche aggiungere nuove combo. Ovviamente poi una volta digitati i tasti dovete andare su ok, io non lo faccio perché sennò combinerò sicuramente i danni, sono veramente tantissimi, guardate la lista incredibile, spulciatevela tutta, mettetevi da parte ovviamente quelli più interessanti su un foglietto e così siete già pronti nel caso in cui dovessero servirvi. Come si fa a recuperare la forma partita durante l'arco della settimana? Beh, volendo potreste far giocare semplicemente quel giocatore in più perché è così che si migliora la forma partita, ma se quel giocatore è molto scarso e non vi fidate delle sue qualità potreste andare in allenamento, andare quindi a inserire una sessione di partitella che trovate in preparazione alle partite e poi partitella e vedete insomma che la forma partita cresce tantissimo, questa è la sessione più indicata tra quelle di allenamento per poter migliorare la forma dei vostri giocatori che giocano meno spesso. Un'altra alternativa sarebbe quella di renderlo disponibile per l'Under 20 senza spostarlo fisicamente nell'Under 20. Se un giocatore sta nella squadra principale giustamente si allenerà con la prima squadra, ma andrà a giocare appunto nell'Under 20 se lo rendete disponibile per l'Under 20. Come si fa a rendere disponibile un giocatore nell'Under 20? Facciamo il caso di Andre Anderson, tasto del suo mouse in corrispondenza di questo nome, andate su squadra disponibile per l'Under 20, dopodiché andate disponibile per l'Under 20 finché non è in forma e in questo caso decidete un numero di minuti a vostra scelta. Chiaramente se avete paura che si possa rompere potete dare 60 zicché 90, vi ricordo che per i portieri giustamente si può mettere solamente 90. Andiamo quindi su 90 e Andre Anderson andrà a giocare quindi nell'Under 20 finché non andrà a recuperare la forma partita. Come si fa poi però a richiamarlo un'altra volta e non mandarlo sempre nell'Under 20? Basterà andare quindi su Andre Anderson, andare su squadra, andare su disponibile Under 20 finché non è in forma e vedete che qui ci sta questo check che vuol dire che insomma il giocatore va sempre nell'Under 20 finché non è in forma. Se volete toglierlo basta ricliccarci sopra, quindi si fa lo stesso percorso sia per metterlo disponibile per l'Under 20 sia per andarlo a togliere. Non tutti possono permettersi di pagare 30 mila all'anno per il signor Mappé, come si fa a capire quindi qual è il nostro tetto massimo, che attenzione può modificarsi nel corso del tempo perché magari aumenta la reputazione del club, aumenta il bilancio. Andiamo quindi su finanze, andiamo a vedere poi la voce stipendi e qui ci viene detto esattamente ruolo per ruolo al momento quello stipendio più basso, quello più alto e qual è il tetto massimo, la soglia che non possiamo andare a sforare per quando riguarda il nostro club. Alle volte può capitare di dover giocare due partite molto importanti una ridosso dell'altra, non ci sono abbastanza giorni per recuperare quindi dovremmo magari essere costretti a fare del turnover ma magari non vogliamo fare il turnover perché ci interessa proprio utilizzare gli 11 migliori per quelle due partite. Quindi non ci resta altro da fare che utilizzare la dinamica del riposo che non tutti utilizzano ma che è davvero fondamentale per arrivare a vincere poi le cose che contano durante l'arco della stagione. Quindi proviamo a selezionare tutti i giocatori da Luis Felipe fino a Cire Mobile perché sono troppo stanchi. Quindi tasto sinistro in corrispondenza di Luis Felipe proprio in questa zona dello schermo e lo si tiene sempre premuto e si scende fino a prendere tutti i giocatori che ci interessano. In questo caso lasciamo poi il tasto sinistro del mouse, andiamo a cliccare con il destro in un punto qualsiasi di questi giocatori che abbiamo selezionato. Vedi che ne abbiamo selezionato in nove, andiamo quindi su allenamento, andiamo su a riposo, magari ci sono solamente due giorni da una partita e dall'altra, pigiamo su due giorni e questi giocatori non si andranno ad allenare. Quindi non blocchiamo l'allenamento per tutti. Se noi andassimo su allenamento, andassimo poi sul calendario e mettessimo due giorni di riposo qui e qui mettendo sempre riposo come sessioni, noi faremo riposare anche quelli che però non hanno giocato e quindi faremo un danno ai nostri ragazzi perché l'intera rossa non ha bisogno di riposarsi ma solamente quelli che devono giocare per forza entrambe le partite. Possiamo volendo anche selezionare questi giocatori in maniera più semplice. Pigiamo per esempio su Luis Felipe, dopodiché teniamo pigiato il tasto della tastiera Shift, pigiamo sull'ultimo giocatore e in questo caso senza dover portare il mouse, quindi tenendolo premuto, abbiamo selezionato lo stesso nove giocatori. Come vedete appunto si può fare anche così, quindi o si prende il primo giocatore e l'ultimo tenendo premuto il tasto Shift o si va appunto a selezionare il primo giocatore e si tiene premuto il mouse fino in fondo. Quante volte durante l'arco della stagione ci sono dei giocatori che si lamentano perché vogliono un nuovo contratto, magari sta andando meglio come collettivo o magari quel singolo giocatore sta giocando decisamente bene e vuole approfittare della situazione? Beh in questi casi vi consiglio, se il giocatore è molto importante, di fargli sì il contratto per evitare problemi nello spogliatoio, ma attenzione potreste anche andare a posticipare la data del nuovo contratto, se io clicco qui su immediata per esempio e poi pigio sul fine stagione, beh io il contratto glielo prometto all'Azzari come rinnovo, ma non glielo pago già adesso, ma glielo pagherò dal 30 giugno 2022. Attenzione siccome lui non ha effettivamente firmato il nuovo contratto perché è un contratto che verrà firmato tra diversi mesi, poi potreste essere anche liberi di venderlo, quindi poi non siete costretti per forza a dargli quei soldi, magari nel frattempo trovate una soluzione alternativa e lo andate poi a vendere dopo, quindi è molto importante perché non solo vi acquieta il giocatore, ma vi permette anche di magari venderlo se poi quella cifra voi non volete veramente pagarla, ma perlomeno mettete a posto ovviamente l'umore. Quando un giocatore ci chiede tanto di stipendio come base, potremmo volendo andare a utilizzare le clausole che ci permetterebbero di abbattere poi sensibilmente questo stipendio di base. Ovviamente vi consiglio di utilizzare qualcosa che difficilmente poi si dovrà realizzare, per esempio andato su clausole potremmo andare a pagare un bonus per aver fatto che ne so 30 reti durante l'arco della stagione, quando mai l'Azzari farà 30 reti, quindi potremmo anche dargli tanti soldini, perché tanto siamo sicuri che questa roba lui non la riuscirà a portare a termine, però nel frattempo ci farà abbattere lo stipendio base. Un'altra cosa che potremmo fare, oltre ovviamente ai goal, può essere invece l'assist, dopo 30 assist durante la stagione noi gli diamo altri 600k. Un'altra cosa molto utile per esempio è anche la cifra minima per l'eventuale retrocessione. Avete una squadra come la Lazio che non retrocederà mai, potete dire, guarda, se retrocediamo ti liberiamo a zero. Questo è molto potente come clausola, perché il giocatore giustamente ha l'opportunità nella sua testa di liberarsi eventualmente a zero. Ovviamente più la squadra rischia di retrocedere veramente, meno ha senso utilizzarla. Attenzione a non compotervi con l'altra però cifra di rescissione che è praticamente quest'altra, perché se poi vi imbrogliate e mettete quest'altra cifra minima per rescissione e mettete zero, poi finisce che qualcuno offrezza e se lo prende. Quindi mi raccomando a non fare confusione tra le due. Ma la clausola più potente di tutte è ovviamente quella dove si va a pagare parte dell'eventuale cessione del cartellino del giocatore. Se io clicco per esempio su percentuale del valore della cessione, lui si beccherà la metà del valore poi di questa cessione, se metto il massimo. Fatelo solamente se intendete non vendere quel giocatore, perché è talmente importante che volete tenervelo fino alla fine. Perché questa roba qua difficilmente poi la potete togliere quando andrete a rifare il contratto per rinnovarlo. Vediamo come personalizzare al meglio i database quando si avvia un nuovo save. Molto spesso l'errore è quello di riempire, questa lista di campionati giocabili con tante nazioni. Il rischio però è quello di rallentare tantissimo il gioco. Quello che vi consiglio io è che se non vi interessa andare a giocare in questi campionati, è inutile andare a mettere guarda soltanto. Guardate cosa accade come numeretto qui su database. Se io metto solamente guardabile la liganna, perde più di 4.000 giocatori, all'incirca 4.000 giocatori. Ma se io invece di fare questo fosse andato qui su database piccolo, avessi messo personalizza e avessi messo il continente europeo, guardate qui cosa accade, vado a mettere la spunta su tutte le caselline tranne la seconda e la terza. Guardate il numero di giocatori che vengono aumentati. Tantissimo senza mettere neanche un altro campionato giocabile. Sto inserendo i giocatori direttamente nel database senza andare ad attivare altri campionati. Andiamo su ok, guardate cosa accade adesso se la liganna diventa semplicemente guardabile. Da 56 passa a 54. Ho perso meno della metà dei giocatori. Perché li ho inseriti direttamente all'interno database. Molti di quelli che si vanno a perdere appunto passano da giocabile a guarda soltanto. Quindi se volete personalizzare al meglio il vostro database, andate qui in alto a destra, mettete sempre grande, e poi andate sempre su personalizza e andate a mettere i continenti. Sia europeo sia sudamericano se potete permetterlo, se no lasciate semplicemente l'europeo che è quello sicuramente più ricco di tutti e cliccate ripeto per entrambi tutte le caselline tranne la seconda e la terza. Perché al momento sono a 60, se metto anche la seconda e anche la terza salgo a 300k. Quindi non ha senso perché sarebbe un numero superiore a 120 e di solito quel numero quando si va a superare crea lo stesso dei rallentamenti. Quindi noi non vogliamo essere rallentati, mettiamo tutte le spunte sia per l'Europa sia per il sudamerica tranne ripeto la seconda e la terza. In questo caso noi avremo una valanga di giocatori che andremo a vedere nelle nostre giocate. Vi consiglio di mettere tanto giocabile perché tanto non cambia moltissimo, però se volete in qualche modo rimpicciolirlo un po', mettete anche il guarda soltanto, ma il grosso ripeto lo fa proprio il personalizzare il database. In definitiva quali sono i campionati che vi consiglio di attivare se potete permetterlo perché avete un computer molto potente, beh i top 5 campionati sono sicuramente molto interessanti perché anche se non volete andarci ad allenare sono comunque presenti squadre molto ricche che potrebbero quindi aumentare il numero di trasferimenti verso il vostro campionato. Quindi io metterei sempre top 5, poi metterei sempre anche l'Argentina e il Brasile perché da lì trovate ulteriori giocatori in più aggiungendo questi campionati oltre ad aver personalizzato il database e poi volendo poteste anche mettere la Cina perché qualche volta arriva ancora un'offerta croccante da alcune di quelle squadre. Non è più come l'anno scorso, sono state un po' ridimensionate, sono diminuiti anche gli sugar dead che erano presenti in quel paese, però ripeto, male non fa se avete la possibilità di inserirlo. E poi metterei anche l'MLS. Ci fate caso, quest'anno l'MLS acquista un po' di più rispetto agli altri anni anche dall'Europa. Io ci ho visto per esempio in MLS, in qualche save, Lorenzo Lucca. Il video sui consigli, sui trucchetti da utilizzare per rendere più performanti, più appaganti le vostre esperienze su EFM termina qui. Ricordo che potete aggiungere a questi consigli anche quelli detti per EFM reti perché sono in aggiunta a quelli detti oggi. Non mi resta che salutarvi, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, ma vi aspetto anche ogni giorno in live su quella piattaforma viola da lunedì al venerdì dalle 19, sabato e domenica dalle 17. Un bacione a tutti.